Abbiamo avuto la notizia in questo momento che l'Alta Corte del Kerala ha accettato la concessione di un permesso natalizio per poter avere i nostri due Marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, tra le loro famiglie per le festività del Natale. E' con grande sollievo che abbiamo colto questa notizia, una notizia che dà prova delle sensibilità indiane per i valori più sentiti del popolo italiano e della nostra gente in occasione di questa importante festività natalizia.